Chi era il cavaliere medievale e soprattutto che cos'era la famigerata cavalleria pesante? Allora, voglio iniziare subito da quello che secondo me è la cosa più interessante, ossia il perché la cavalleria la vediamo solo dall'alto medioevo in poi. Nell'antichità non esiste la figura del cavaliere della cavalleria pesante, gli antichi romani sono stati uno degli imperi più militarmente organizzati della storia, eppure combattevano prettamente con le sole fanterie. O meglio, esistevano reperti di elite di cavalleria come ad esempio i Celeres, armati di gladio lungo, la spata, quello da cui poi deriverà la spada alto medievale. Però di certo non erano lontanamente efficaci come i cavaliari medievali. E sapete il perché? Beh, il motivo risiede in una piccola invenzione che ha letteralmente cambiato il corso della storia bellica medievale. Esatto ragazzi, la staffa! Le staffe a cavallo le iniziamo a vedere solo nell'alto medioevo, però furono inventate in India nel secondo secolo e introdotte in Europa solo attorno al settimo ottavo secolo. E questo perché, come al solito, noi europei abbiamo inventato poca roba, ma siamo stati incredibilmente bravi a utilizzare le invenzioni altrui, soprattutto le armi. Comunque ragazzi, tornando alla staffa, non avete idea di che passo avanti fu per l'epoca. Senza staffe, ragazzi, è difficilissimo combattere a cavallo. Quindi la staffa a cavallo cambia totalmente il modo di fare la guerra e piano piano i popoli occidentali, ma anche un po' nel resto del mondo, si rendono conto che la cavalleria è estremamente superiore a qualsiasi altro tipo di guerriero. Ed è così, infatti, che la maggior parte delle società medievali pian piano vanno a strutturarsi per poter formare e creare il maggior numero di cavalieri possibile. Cioè, una grossa parte delle risorse finiscono nell'armare i cavalieri. E già, perché nel medioevo la guerra è un, chiamiamolo, business molto importante, o comunque è un aspetto che fa parte della vita dei privilegiati che se lo potevano permettere, e che sia un comune italiano o un impero tedesco, saper fare la guerra è un must. Chiariamoci però di battaglie, come ne vediamo nei film, erano molto rare. La maggior parte delle volte erano manovre di incursione, saccheggi, razzie, e a volte conquiste e assedi. Ma le grandi battaglie in campo aperto avvenivano solo per cose gravissime, e se proprio non si riusciva a raggiungere un accordo fra le due fazioni. Cioè, proprio quando non se ne poteva più. Però, bisogna essere comunque pronti anche a quelle. Anche perché, sostanzialmente, la figura del cavaliere nasce un po' assieme alla figura del signore protettore. Cioè, nei primi secoli dell'alto medioevo, quelli dopo le invasioni barbariche, i problemi di brigantaggio non erano certo una rarità. Quindi, alcuni fra i più abbienti, iniziano a investire le loro risorse per fortificare il proprio villaggio, a quei tempi con palizzate in legno, ovviamente, e ad offrire la propria protezione a tutti gli altri. Protezione, ovviamente, offerta in cambio di tasse, così che il signore potesse concentrarsi sulla difesa del borgo. Ed è appunto così che nascono molte famiglie annobiliari. Famiglie che sulla formazione dei cavalieri investono tantissimo. Ne venivano quindi addestrati il più possibile. Ma chi erano questi cavalieri? Allora, innanzitutto, essere cavaliere comportava essere una figura giuridica. Avevano infatti diritti, doveri, un codice cavalleresco, e soprattutto privilegi. Iniziavano ad essere addestrati molto piccoli, all'incirca l'età di 7-8 anni, e tutta la loro vita era dedicata all'addestramento alla guerra. Si esercitavano nella lotta, nella scherma con qualsiasi tipo d'arma, nell'andare a cavallo e, ovviamente, in tutte le altre cose che si potevano permettere le classi privilegiate dell'epoca. Erano dunque enormemente superiori a qualsiasi altro tipo di combattente, perché, per carità, nel Medioevo anche molti civili erano in qualche modo spinti ad addestrarsi, soprattutto nelle città, ma lo facevano quando potevano, perché il resto del tempo dovevano lavorare. Invece, i cavalieri non perdevano tempo a coltivare la terra o a stare in bottega, perché il loro unico mestiere era quello delle armi. Ad ogni modo, a proposito di questa superiorità dei cavalieri, vi porto una piccola curiosità. I cronisti dell'epoca, fino al Trecento, che ci han descritto le varie battaglie, a volte non riportavano nemmeno quanta fanteria era presente, ma solo la cavalleria. Cioè, dicevano una roba del tipo, sono presenti 1500 cavalieri e parecchi fanti. Proprio perché, il più delle volte, fino al XIV secolo, la fanteria non faceva la differenza. Doveva solo mantenere la posizione, stare pronti con la loro bella lancia piantata per terra ed essere un capisaldo per i cavalieri che magari rientravano a riposarsi fra un assalto e l'altro. Ma a proposito di addobbi cavallerischi, ragazzi, se vi piace questa maglietta, sappiate che la potete trovare sullo store di Feudalesimo Libertà, dove con il codice sconto ADRAS avrete il 10% di sconto su tutti i prodotti dello store e del sito e in più supporterete sia il canale di Fel, che è una figata, che quello mio, che insomma, se vi piace, ecco, vedete voi. Tornando invece al fatto che per i governi la guerra era un must, pensate che addirittura ad un certo punto anche la gente comune, ossia magari ricchi mercanti, imprenditori, insomma, plebei arricchiti, iniziarono ad investire nell'avere un cavaliere in famiglia. Eh sì, perché se eri davvero ricco, quella era una delle più grandi aspirazioni a cui potevi arrivare, soprattutto se non discendevi da una famiglia nobiliare. Anzi, praticamente la famiglia nobiliare la stavi iniziando a creare in quel momento. Anche se questo però più che altro in Italia, perché all'est era un po' più difficile e la cosa non era proprio ben vista. Però addirittura a un certo punto gli stessi governi comunali iniziano a fare i conti in tasca ai ricchi imprenditori, obbligandoli, superato un certo reddito, ad avere e quindi a fornire un cavaliere col suo cavallo da guerra. E tutto questo succede nonostante i cavaliere avessero un costo altissimo, praticamente per fare un vaghissimo confronto con i giorni nostri, addobbare un cavaliere poteva costare dai 300 ai 500 mila euro. Ovviamente prendete questo paragone con le pinze, perché l'economia medievale è decisamente diversa da quella nostra. Ma perché costava così tanto? Allora, innanzitutto c'è l'addestramento, perché come ho detto prima, venivano mandati dal maestro d'arme all'età di 7-8 anni. E il maestro d'arme, ragazzi, costa, mica ti insegna gratis. E pensate che fra l'altro venivano mandati a quell'età e non prima, perché prima dei 7 anni la mortalità era altissima. Cioè nel Medioevo, ma in generale in tutte le epoche precedenti alla nostra meravigliosa medicina moderna, se fai i sei figli, in media è probabile che un paio muoiano nell'infanzia. Quindi prima di investirci aspettavano che arrivassero ad un'età, diciamo, un po' più sicura. I 7 anni, appunto. Comunque, oltre all'addestramento, ci sono poi gli enormi costi dell'equipaggiamento. E un cavaliere che se rispetti deve avere, allora, innanzitutto una spada. Quelle però erano meno costose di quanto si pensi. Diciamo che una spada nel Medioevo può costare all'incirca quanto uno o due mesi di paga di un lavoratore del ceto medio. La spada però non basta. Il cavaliere ne aveva di armi che si doveva portare in giro. E ci vuole quindi una bella mazza da guerra, o una scure d'arme da mettere alla cintura come arma secondaria. Ci vuole una bella azza, o anche detto mazzapicchio, nel caso in cui ci sia bisogno di aprire un altro collega cavaliere, uno scudo o anche più d'uno, un pugnale, perché una bella daga sfondaggiaco è utile in quei momenti in cui ci sia bisogno di operare con precisione. Ma soprattutto ci vuole la lancia, perché non scordiamoci che la prima arma che il cavaliere usa in battaglia, ragazzi, è la lancia. E le lance si spezzano, quindi ce ne vogliono diverse di scorta. E adesso so cosa state pensando. Beh, dai, sono di legno, non costano tanto. Ma non è così. Il legno nel Medioevo era costoso, soprattutto gli alberi ad alto fusto che servivano per fare lance lunghe 3-4 metri. Quindi capite che già solo per armare un cavaliere abbiamo un piccolo patrimonio. E pensate, ragazzi, che le armi in realtà sono la cosa meno costosa. E già, ragazzi, fra tutto l'equipaggiamento e l'investimento più grande erano sicuramente le armature. Per le cotte di maglia ogni singolo anello è chiuso e rivettato a mano. Mentre per le piastre che vediamo dal 300 in poi, mica le facevano con l'armiere già pronte come ora. No, ragazzi, l'armiere medievale realizza ogni pezzo partendo da un blocchetto d'acciaio, forgiato e temprato. Ah, e se volete approfondire l'evoluzione delle armature del cavaliere medievale, vi lascio qui nelle schede un video dove approfondisco particolarmente l'argomento. Comunque, capite che c'era un botto di lavoro e un'armatura completa poteva tranquillamente costare come una casa. Oppure come una macchina di lusso. E a proposito di macchine di lusso, è il caso, ragazzi, di parlare della cosa in assoluto più costosa del cavaliere medievale. Ossia il cavallo. Un cavallo da guerra costa come una Ferrari. Deve essere addestrato fin da puledro, ci vogliono molti anni e i professionisti in grado di farlo sono molto costosi. Fra l'altro non basta mica solo un cavallo. Anche perché in battaglia si stancano facilmente e muoiono anche facilmente. Quindi un cavaliere che si rispetti deve andarci con almeno due o tre cavalli da guerra. E oltre al cavallo deve andarci anche con un sacco di altra roba. Cibo, tende, accampamento e scudieri che gli fanno praticamente da serventi, aiutandoli a indossare l'armatura, ad accudire i cavalli, a montare il campo, a preparare da mangiare, e tutte altre robe, ragazzi, che vanno pagate. Dunque capite che il cavaliere medievale è un investimento enorme, ma è anche il miglior guerriero della storia, perché equipaggiato con le tecnologie belliche più avanzate del mondo, perché quelle dell'Europa del basso medioevo lo erano, ed è addestrato da tutta la vita. Nemmeno le forze speciali degli Stati Uniti arrivano a tanto, perché dubito che ci siano soldati americani addestrati fin da bambini. O almeno lo spero. Nonostante questo, però, come ben sappiamo, la figura del cavaliere e della cavalieria pesante a un certo punto del rinascimento cade in disuso. Ma com'è successo che il più grande investimento del medioevo fallisca così? Allora, il lungo e lento declino inizia con la battaglia degli Speroni d'Oro del 1302, che segna la prima grande sconfitta della cavalleria feudale francese, ad opera delle fanterie fiamminghe. Cavalleria francese che si riteneva essere la migliore del mondo. E da lì in poi il declino prosegue a causa delle compagnie mercenarie sempre più organizzate, infanterie sempre più efficaci e con metodi orientati proprio a contrastare la cavalleria pesante, come ad esempio le impenetrabile formazioni di picchieri. Ed infine il colpo di grazia avviene due secoli dopo, con la battaglia di Pavia, dove l'imperatore Francesco I di Francia, alla testa dei suoi cavalieri migliori, caricò gli imperiali, gioendo e affrontandola come fosse una giostra. Per poi, però, venire fatti a pezzi dagli archibugieri nemici. Appena 1500 villani armati da archibugio annientano quella che si riteneva essere la più temibile macchina da guerra conosciuta. Nobili cresciuti con l'arte della guerra e coperti dalle migliori armature della storia. Opere di tecnologia che si ritenevano infallibili, ma che in realtà non lo sono state. Ma della battaglia di Pavia ne riparleremo in maniera più approfondita in futuro. Quindi, se vi interessa, innalzate il pollice, iscrivetevi al canale e fate rintoccare quella campana, per non perdervi più un video. Ad ogni modo, dicevamo, la cavalleria pesante vede dunque finire la propria epoca a causa dell'archibugio, e non solo per la sua efficacia, ma anche e soprattutto per il suo costo ridotto e per la sua facilità di utilizzo. Giovanni dalle Bande Nere, uno dei più grandi condottieri di Rinascimento, è stato un grande precursore in questo. Infatti faceva un ampio uso di armi da fuoco e fu anche il primo a schierare degli archibugieri a cavallo. Cioè, praticamente, delle fanterie a cavallo che all'occorrenza potevano smontare e fare fuoco, o rimontare e spostarsi velocemente sul campo di battaglia. Tutto questo perché mettere in campo un fante armato d'archibugio a miccia, costa enormemente meno di un cavaliere pesante e richiede molto meno addestramento. Ed è così, infatti, che gradualmente, dal 500 al 700, anche grazie al progredire delle armi da fuoco, si va pian piano ad avere eserciti sempre più numerosi, armati del solo moschetto, e con armature che sempre di più vanno a sparire, perché costano troppo e non sono più così efficaci. Tuttavia, ragazzi, direi che questa è un'altra storia, e il mio tempo per ora è finito, quindi ci vediamo alla prossima.